Bene, io do la parola a Marta per la proclamazione del vincitore della categoria Under 18, che sarà premiato da Rogelio Santoni. Allora vince per la categoria Under 18 il coro Le piccole note. La proclamazione del vincitore della categoria Under 18, che è la seconda edizione del Poli Stolper. Complimenti.